ciao a tutti noi siamo pronti per la cena di capodanno guardate che favola pizze fritte focaccia affettati vari formaggi e dove la pizza ancora nel forno adesso la tiriamo fuori eccola ciao patata è pronta per mangiare la pizza tutti pronti chi manca nessuno siamo pochi quanto manca tre minuti corriamo andiamo sei pronta biuccia sei pronta allora dobbiamo fare gli auguri anche a valeria stella e massimo che non ci sono stasera sono festeggiare con loro amici pronti aiutami ecco sei pronto nico non sono uscita in tempo per i fuochi ma vedo il fumo il fumo dei fuochi d'artificio vieni nico vieni a fare anche tu una stellina che freddo ma sai che rettini non c'eri dal viso coraggio coraggio e vai auguri buon anno ma via non si sta spaventando tanto zero zero wow evviva buon 2024 a tutti fate tanti pensieri belli e felici auguri del freddo eccola qua auguri via auguri sono più piena quindi è un po più difficile ma più via per la salsa grazie 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 grazie